Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro Otto di Torino. Buon pomeriggio. Il mio nome è Federico e oggi vi parlerò della Torre Tozza. Il castello di E' Otto aveva molte torri, ma la più alta di tutte era la Torre Tozza. Questa torre era orgogliosa perché sorgeva al centro del castello ed era così alta che tutti potevano vederla da lontano. A dire il vero era proprio una torre superba e si credeva la più bella e la più importante, la preferita vera. Così quando un uccello si avvicinava era sempre pronta a dire «Vai a fare il tuo nido da un'altra parte, io sono troppo bella per avere sui miei merli qualcosa che li sciupi! Che torre antipatica!» dicevano le cicogne. «Che torre sciocca!» dicevano i gufi. «Che torre vanitosa!» dicevano le civette. Così nessuno si avvicinava mai. Le cicogne costrevano i nidi su altre torri e la Torre Tozza se ne stava lì, alta e solitaria. La luna, che aveva sentito tutto e sapeva sempre tutto, una notte prese una decisione. «Quella notte quella torre merita una bella punizione!» disse le nuvole, al vento, al sole. «E sapete cosa successe?» Di giorno il sole mandava il suo raggi dappertutto, ma mai solo la torre Tozza, che così restava scura. Di notte la luna illuminava tutto, ma mai la torre Tozza. Così le altre torri luccicavano ad argento e lei non si vedeva per niente. Il vento non la carezzava più, e nemmeno le nuvole. La torre Tozza cominciò a sentirsi molto, molto triste. E una notte chiamò la nuvola nera che passava di lì per chiederle consiglio. «Devi smetterla di essere così superba, torre Tozza!» «Nessuno è migliore o peggiore degli altri, e soprattutto nessuno vuole stare da solo!» La torre ci pensò e ci ripensò. Allora chiese al mago Memo, che stava lì vicino, di aiutarla per sapere, cioè gli uccelli, aguffi e alle civette, persino agli pipistrelli e ragni, ma soprattutto alla luna, che lei non sarebbe mai più stata superba perché aveva bisogno di loro. Il mago suonò forte un tamburo, ma proprio forte. Tum, tum, tum! Il sole lo sentì e si fece attento. Tum, tum, tum! La luna lo sentì e lo riguardò curiosamente. Tum, tum, tum! Il vento lo sentì e si fermò un momento. Tum, tum, tum! Lo sentirono proprio tutti, uccelli e insetti e anche il lettore lì vicino. «Perché sono così forte, tamburo!» E il tamburo disse a tutti che la torre tozza aveva capito e che mai più sarebbe stata superba. Così il sole l'allumina di giorno e la luna di notte. Il vento e le nuove ripreseva da carezzarla. Gli uccelli andarono a costruire il loro nido sui suoi merli e la torre tozza non era mai stata felice come ora. Chiese al tamburo un ultimo favore e lui lo accontentò. Tum, tum, tum! Sono forte il tamburo. «Udite tutti!» «La torre tozza ora è felice e vuole che tutti lo sappiano!» Il vento trasportò da te tutto quelle parole. «Buon pomeriggio, io sono Davide e vi leggerò dal testo Amore in tubetto o Amore in vasetto. La coppia è come la maionese, a chi riesce la prima coppia e a chi non riesce mai. Ed è un casino quando impazzisce. Hai voglia di mescolare. E se alla fine riesci a non farla colare giù dal lavandino ma ricoprarla in estremi. Non sarà mai una maionese che vale un granché. Io la maionese la compro in tubetto. La spremo finché ce n'è e poi la butto via. Non mi va il baratto di vetro, perché quando sta per finire devo raschiare il fondo. Mi vengono i nervi. Il tubetto è più pratico. Quando tutto spremuto succhi un po' e se viene solo aria che sa di plastica, capisci che ora di buttarlo. Facile! La mia amica Margherita è sempre stata una schiappa. È un fatto di maionese. Troppo olio. Troppe uova. A un certo punto, per non stare senza, la comprava addirittura all'ingrosso. In confezioni maxi. Tipo quelle per le mense. Adesso si sposa. Incredibile. Si sposa con un'anima persa. Alto come una tibia di vacca ma di faccia carina. Lo chiamano Ikea. Per via di tratti svedesi. Margherita mi ha fatto vedere il suo abito da sposa. Con quel coso addosso sembra una bomboniera in vetro di Morano. Soffiata a caldo. Un enorme avocado. Buongiorno a tutti. Io sono Alberto Femia. Oggi vi leggerò l'antenato Quasimodo. Il salone reale era bellissimo. Il trono del re Otor era appoggiato alla parete centrale e sul trono c'era un grande quadro nel quale si poteva ammirare l'antenato. Quasimodo. Quasimodo era il bisogno di Otor ed era stato un re molto saggio e generoso ma un po' permaloso. Voleva sempre essere al centro dell'attenzione e si offendeva se qualcuno guardava da un'altra parte. Il suo viso era tondo e paffuto. Gli occhi scuri e furbi. Un nasone grosso e rosso si appoggiava sui baffi bianchi come il ciuffetto di capelli che si intravedeva sotto la corona. Quando nella sala si riunivano personaggi importanti, Quasimodo li guardava dall'alto e sorrideva. Sì, sorrideva davvero come se in quella cornice non ci fosse un dipinto, ma un uomo in carne ed ossa. Nessuno, però, se ne accorgeva perché nessuno alzava mai gli occhi per guardarlo e questa cosa faceva andare Quasimodo su tutte le folie. Per la barba di Berzebù, pensava, sotto ciechi e sordi tutti quelli laggiù. Quasimodo era proprio arrabbiato, così decise che qualcosa andava fatto. Per il suo compleanno, Thor invitò da me i cavalieri, principi e principesse, conti e contesse. La sala reale risplendeva di luci e tutti ballavano al suono della musica. Ma a un certo punto si sentì un vocione tuonare dall'alto. Qua, qui, chi aveva parlato? Tutti alzarono gli occhi, ma lassù non c'era nessuno. Qua, qui, intuonò ancora Quasimodo. E allora lo videro, nella cornice dorata il faccione dell'antenato li guardava molto arrabbiato. Poi, vedendo le loro bocche aperte per la meraviglia, si mise a ridere. La musica si fermò, da me e i cavalieri rimasero fermi, tutti con il naso in su. Tiriamolo giù, suggerì. Urra! No, no, disse Thor. Prima voglio vederlo da vicino. Si fece portare una lunga scala e, gradino dopo gradino, arrivò a faccia a faccia con il suo antenato. E quello che cosa fece? Una linguaccia. Thor, per lo spavento, per poco non cadeva giù. Allora Quasimodo si mise a ridere, ma a ridere così di gusto da far ridere anche il re. Poi gli disse piano, qui, qua. Thor capì e ordinò che il quadro fosse immediatamente portato giù e messo sul trono. Ora sì che Quasimodo era contento, si sentiva al suo posto e tutti potevano vederlo. Buongiorno a tutti, io sono Antonino ed oggi vi leggerò il racconto numero 22. Il signore, livemente miope, con difetto di pronuncia che fumò la pipa, abita nello stesso palazzo in cui abita una signora taciturna, riservata, magra e fondamentalmente giovane. Il signore e la signora vivono in decorosa solitudine, anche se la casa della signora pecca per eccesso di ordine e la casa del signore per difetto. Essi si incontrano praticamente ogni giorno, un incontro rapido e casuale, con un lieve sorriso, un saluto a mezza bocca. Ciascuno dei due ha pensato in vario modo alla presenza dell'altro, senza fantasticherie, senza amore e tuttavia a lungo. Ciascuno è lievemente, ma non sgradevolmente, disturbato dalla presenza dell'altro. Nessuno dei due ha mai pensato che la conoscenza tanto casuale potrebbe diventare un dialogo più specifico e amico. Essi, infatti, non desiderano conoscersi né parlarsi. Tuttavia il problema assolutamente minimo che ciascuno dei due pone all'altro non cessa di turbare, in modo trascurabile ma costante, le loro vite. Ciascuno dei due, pertanto, ha tentato di capire che cosa mai è accaduto, come si è cominciata quella stratta frequentazione e che mai significhi quella molestia, quel cruccio che ciascuno rappresenta e sa di rappresentare nella vita dell'altro. Infatti ciascuno sa che l'altro è in qualche modo toccato, sfiorato e considera questo contatto un bizzarro enigma. La signora ha concluso che il signore lievemente miope ha alcune qualità dell'allucinazione. Pensando attentamente, in silenzio, ella in quel volto, la camminata, il movimento delle mani, perfino in una certa giacca, ha potuto riconoscere tracce di persone scomparse da tempo, irrecuperabili e care, e si è detta, parte ridendo, parte lacrimosa, che quell'uomo è un luogo di incontro di zii, genitori, anche amiche di infanzia, e un uomo che ella ha ammirato e perduto. Il signore lievemente miope ha cercato di cambiare gli orari, gli itinerari, le abitudini, per non incontrare più la signora taciturna, e ciò ha lo scopo di interpretarne la presenza. Ha sofferto intensamente, in modo privo di senso. Ma gli sembra di aver capito di essere legato a quella signora, da un legame minimo ma non resecabile, qualcosa che collega i luoghi più appartati e ignorati delle loro esistenze. Quel legame non è amore, ma qualcosa che sta tra la vergogna e la predilezione. Entrambi lo sanno, ma non è il loro concesso di saperlo. Ogni loro incontro casuale è un furto innocuo, ma esige un perdono. Grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di Radio Teatro 8. Per oggi è tutto, vi aspettiamo alla prossima puntata.